Wella ragazzi da oggi vi ricordo che potete supportare il vostro creator preferito attraverso la scheda negozi oggetti Cliccate su supporta un creatore e inserite il mio nome jkpr-ucalabres accetta Dopo che avrete cliccato accetta ragazzi controllate che ci sia scritto sul creatore supportato il mio nome Quindi ragazzi se le mie live e i miei video vi hanno strappato almeno un sorriso in tutto questo tempo Vi ricordo di inserire il mio nome in creatore supportato jkprucalabres e ringrazio chiunque lo farà Ma bando alle ciance vi ringrazio e vi lascio al video Ciao belli Well ragazzi io sono Luca Labressi e vediamo in questo nuovo video di Fortnite Allora ragazzi finalmente ci siamo La Epic si accorta che c'è qualcosa che non va per quanto riguarda il pompa del nonno Quindi ragazzi finalmente finalmente questa è una notizia Cioè non ho parole ragazzi io faccio questo video col sorriso perché Cioè non mi sembra vero che la Epic sta diciamo facendo un rebalance un ulteriore modifica Al pompa del nonno perché diciamocelo chiaro ragazzi Il danno del pompa del nonno era falso Cioè alcune volte sembrava di avere un fucile a pompa finto Con i pallettoni di gomma perché vedere 8 di danno da vicino 20 di danno magari preso in ergi Ma anche il 40 di danno ragazzi 40 di danno da vicino preso in pieno Quello non è fattibile Ma ragazzi non dilunghiamoci più Vi faccio capire di quello che stiamo parlando con questa clip Eccoci qui ragazzi con questa clip Di un giocatore già un pro player Grims Non so se lo conoscete Comunque questo è proprio l'apoteosi del danno fallato del pompa Ecco qui ragazzi Ecco qui ragazzi Abbiamo potuto vedere che l'ha preso in pieno E ha fatto 9 di danno ragazzi Ma andiamo a vedere meglio Questa è la clip normale ecco qui Avviamo Bam headshot 9 ragazzi E il bello qual è ragazzi Che poi ci muore pure Quindi Qua avrebbe dovuto one shotare l'avversario E mi dovete dire nei commenti ragazzi Quanti di voi sono morti Per questa situazione qui Quanti di voi Io voglio leggere i commenti Di quanti di voi sono morti Come questa situazione qua In ogni caso Tutto ciò Non lo vedremo mai più Ma andiamo a vedere meglio adesso Di cosa tratta questo Diciamo update Quindi Secondo il tweet di Epic Eric Quindi dello staff della Epic E il pompa blu adesso Cioè quando ci sarà L'aggiunta di questa patch Farà 10 danno per pallettone Quindi diciamo che il minimo di danno Che farà sarà 30 Ovviamente raga Da una minima distanza Questo danno Sarà applicato 30 Un minimo di 30 Ovviamente E man mano che ci allontaniamo Dal target Quindi più ci allontaniamo Dal target Questo danno sarà Minore Come tutte le armi Ed è giusto che sia così L'importante è comunque Che questo 30 Verrà applicato Almeno Anche se lo ittiamo Di striscio O comunque Lo ittiamo per Diciamo viene ittato Quasi male Però l'importante È che faccia almeno 30 Perché il pompa del nonno Raga Non era possibile Vedere 8 Poi qua ci sta anche Una battuta Di Arctic Shore Che dice che Praticamente Il pompa ha fatto 8 Adesso verrà Rimpiazzato con Oh my god My pump Only did 20 damage Quindi Diciamo che è una battuta Da parte di Arctic Shore Che non so chi sia Comunque GG Continuando a leggere Ragazzi Delle patch notes Questo è proprio Diciamo Ufficiale Il pompa del nonno Vabbè Pomp shotgun Riceverà Un bilanciamento Nel prossimo Update di Fortnite Quindi la 6.31 Vi ricordo che siamo Alla 6.30 Seguendo comunque L'andazzo generale Delle patch Di tutto il resto Di tutto quello Che hanno aggiunto La Epic si è accorta Appunto che Serviva Serviva E dico che serviva Un fix Sul bilanciamento Del pompa del nonno Perché non so Cioè Noi continuiamo a utilizzarlo Perché è un'arma Comunque che Ormai Quando voi cominciate A utilizzare un'arma La utilizzate pure Se fa schifo Alla fine Perché il pompa del nonno Raga Parliamoci chiaro È una delle armi più utilizzate Ma non solo su Fortet Ma in tanti altri giochi Perché è bello raga Proprio quando gli becchi Led 130 BAM 160 Quelle rare volte Che Dio ci aiutava E ci faceva fare Quel danno Però raga In ogni caso Ci stava Questo fix Ci stava Poi Andando avanti A leggere ragazzi Ecco ragazzi Via tweet Ha annunciato Che il pompa del nonno Vabbè Ci sarà giunto Questo update Nella 6.31 Quindi speriamo Che arrivi presto Questa 6.31 E se non sbaglio Ragazzi La 6.31 Sarà Una patch Molto Big Molto grossa Quindi a livello Di peso Non so Quali altri cambiamenti Ci saranno Però Presumo che vedremo Tanti cambiamenti Anche a livello Grafico A livello di bug fix Queste cose qua Vedremo comunque Al più presto Ok According to Williams Vabbè Questo qua L'abbiamo già detto prima Quindi praticamente Che da vicino I danni aumenteranno E saranno più efficaci Mentre più ci allontaniamo E più il danno verrà Diciamo ridotto Ma questo è giusto L'importante è che da vicino Faccia il suo lavoro Poi Ah Tutti gli shotgun Quindi riguarda Tutti gli shotgun We also have 3 pellet Ah Ecco ragazzi Questa è la cosa Una delle cose Essenziali Che praticamente Anche se hittano Ad esempio Due colpi Hittiamo due pellet Ok Verranno contati Come se fossero 3 Un minimo di 3 Quindi se il pompa Fa 5 di danno Ok E lo hittiamo Con un pallet solo E' come se l'avessimo Hittati con 3 Quindi al posto di fare 5 Farà 15 Quindi se è un minimo Di 10 Farà almeno 30 Ragazzi Il pompa del nonno A quanto Ho scritto qui A quanto ho capito io Poi correggetemi Ragazzi Perché lo potete leggere tutti Quindi c'è scritto Qui al shotgun We also have 3 pellet Minimum damage Regardless So many pellets Actuality the target Sì ragazzi Presumo sia questo Quello che vogliono dire Comunque Quando ci sarà l'uscita Della patch Lo vedremo in gioco In ogni caso Questo diciamo che E' un'introduzione Alla patch Il danno verrà incrementato Da vicino E il raggio Verrà ridotto Significativamente Tutti I pompa Hanno Un minimo Ecco qua ragazzi Quello che dicevo io Sì 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 3 pellets Ok Anche quindi Se hittate Uno o due Pallettoni Come si vede Dal replay Avete visto che c'è Quel colpo Largo che si vede A spread Pure che hittiamo Con un pallet solo Al posto di dare 8 di danno Vedremo 8 16 24 24 di danno Perché è come se L'avessimo colpito Con 3 pallettoni Quindi siccome Adesso il pompa blu Farà 10 per pallettoni Il minimo di danno Da vicino Sarà 30 Questo è poco Ma sicuro ragazzi Almeno a quanto Ho scritto qua Poi Permesi la community Vabbè Ovviamente ragazzi Qui la community Si è lamentata Quindi la community Ancora una volta Ha fatto la differenza Ma Effettivamente ci sta Quante volte ci siamo lamentati Per questo problema Quante Quante volte ragazzi Quante Quindi Vabbè I creatori Della epic Diciamo che hanno deciso Di implementare questo cambio Che era necessario Secondo me era necessario Anche prima Ci hanno messo un bel po' A fare questo cambiamento Poi Non si sa quando Vabbè La 631 L'update 631 Verrà introdotto Vabbè Che dicono che ci daranno Ancora più informazioni Quando ci saranno Quindi raga Finalmente Vedremo dei cambiamenti Sostanziali Per quanto riguarda Il pompa del nonno E vedremo poi in seguito Se ce ne saranno Degli altri Perché poi Dobbiamo andare a vedere Comunque Che tipologia di danno fa Perché parliamoci chiaro Raga Il tac Era molto più forte Il pompa del nonno Perché Sparava più veloce Faceva un danno simile Quindi il tempo Che voi sparavate Col pompa del nonno A parte che avevate Un colpo solo Del nonno Perché se voi lo fallevate Dovete o buildare O comunque switchare arma Mentre invece con il tac Da vicino Se vi beccava vicino Raga Tan 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 Morto GG In ogni caso ragazzi Queste sono notizie Che ci fanno sperare In un cambiamento Migliore Per quanto riguarda Fortnite E niente raga Spero che questo piccolo update Vi sia piaciuto Ve l'ho portato in anteprima Non penso che ci sia già Qualcun altro Che l'ha portato In ogni caso Questo cambiamento Ci voleva Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Io ringrazio Per aver visto il video Vi ricordo Di iscrivervi al canale Di lasciare un bel like Se questo video vi è piaciuto E ci vediamo al prossimo appuntamento Ciao belli